buonasera a tutti benvenuto o benvenuta a questa live il mio nome è Simone Rubesi sono un trader della Top Trading Academy stasera vedremo una strategia ciclico volumetrica in particolare che si basa su due nostri indicatori proprietari e successivamente andremo anche a fare un'analisi a mercati aperti quindi è molto importante rimanere fino alla fine per comprendere bene il tutto iniziamo con fare un escursus su cosa sono i cicli di borsa concetto dal quale partono tutte le nostre strategie e indicatori guarderò spesso alla mia destra perché ho un ulteriore schermo quindi qualsiasi domanda arrivi da i nostri canali social o da zoom riesco a vederla e riesco a rispondere quindi partiamo dal concetto di che cos'è un ciclo di borsa non è altro che un periodo di investimento programmato da parte della mano dominante del mercato per mano dominante intendiamo quell'insieme di operatori istituzionali di alto livello che avendo ingenti quantità di titoli future eccetera da acquistare o vendere pianificando differenti temporalità di investimento generano andamenti regolari in sostanza questo significa che il mercato si muove in relazione a degli andamenti di questo tipo conseguentemente a che cosa conseguentemente al fatto che ci sono degli operatori come dicevamo prima istituzionali di alto livello del calibro per esempio di black rock che riescono a manipolare il mercato come fanno a manipolarlo avendo a disposizione un ammontare di denaro veramente veramente importante parliamo di migliaia di miliardi e ovviamente nel momento in cui muovono questi ammontari riescono a manipolarne il prezzo nel momento in cui entrano queste massicce quantità di denaro nei dintorni del minimo cosa succede che il prezzo si alza si alza perché il la domanda supera l'offerta nel momento in cui c'è tanta domanda di un bene il prezzo si alza questo vale l'economia reale come in finanza una volta arrivati nei dintorni del massimo escono queste massicce quantità di capitali generando a questo punto un eccesso di offerta perché quando la domanda supera l'offerta il prezzo scende e questo si ripete costantemente è a tutti i livelli quindi in tutti i mercati sia nel breve periodo che nel medio periodo che nel lungo quindi qui rientrano massicce quantità di capitali il prezzo si alza arrivati nei dintorni del massimo escono massicce quantità di capitali prezzo si abbassa e così via questo accade continuamente in tutti i mercati ok quindi quello che dobbiamo fare noi come trader ciclici è individuare questi flussi monetari che scatenano questi andamenti di prezzo poi ovviamente lo vediamo anche nei prezzi effettivi detto ciò vediamo anche di stabilire la regola principale cioè che un ciclo inizia su minimo dei prezzi e finisce su minimo futuro dei prezzi esistono di tre tipi rialzisti ribassisti e laterali partiamo dai cicli rialzisti che in sostanza sono dei cicli che hanno questo tipo di conformazione ovvero una fase di rialzo più ampia rispetto alla fase di ribasso il minimo finale più alto del minimo iniziale ed il massimo più vicino al minimo finale ciclo ribassista invece ha un andamento opposto cioè ha una fase di rialzo più contenuta poi avrà una fase di ribasso più ampia rispetto a quella di rialzo di conseguenza il minimo finale sarà più basso del minimo iniziale e ovviamente in questo caso il massimo sarà più vicino al minimo iniziale un altro ciclo che possiamo vedere è il ciclo in laterale cioè un ciclo che ha la fase di rialzo che è equivalente alla fase di ribasso e in questo caso il massimo ce lo troveremo al centro e i due minimi sullo stesso livello ok queste sono le tre tipologie che poi vedremo anche sui prezzi intanto mi interessa far capire i concetti detto questo vediamo un'immagine cosiddetta cicloma in sostanza rappresenta quello che è la relazione tra i vari cicli nel caso specifico vediamo che il ciclo rosso non importa quanto tempo duri in questa fase però possiamo vedere che è composto da tre sottocicli blu ogni ciclo blu è composto da due sottocicli quelli verdi ogni ciclo verde composto da tre sottocicli che sono quelli gialli ora in questo caso non è tanto importante sapere quanto dura uno quanto dura l'altro ma capire una regola fondamentale che funziona sempre cioè quando parte un qualsiasi ciclo come in questo punto parte il ciclo rosso automaticamente partono anche tutti i cicli inferiori quindi se in questo punto parte il ciclo rosso automaticamente partirà il blu il verde il giallo la stessa cosa nella parte finale cioè quando finisce un qualsiasi ciclo finiscono sempre anche tutti i cicli inferiori quindi se lì finisce il ciclo rosso finirà anche il blu il verde il giallo questa è una regola ciclica ed è sempre così un altro esempio ce l'abbiamo qua no quando parte un ciclo blu in quel punto abbiamo la certezza che partiranno anche il verde e il giallo ok questo è importante che poi ce lo troviamo anche nell'analisi finale qui invece vediamo l'esempio di quello che abbiamo visto però con un periodo che effettivamente si verifica sui mercati cioè il ciclo mensile è formato da 32 giorni di borsa aperta formati da due cicli a 16 giorni di borsa aperta e sono formati da due cicli a una settimana cioè otto giorni di borsa aperta perché parlo di periodo di borsa aperta parlo di periodo di borsa aperta semplicemente perché il periodo ciclico contempla solo ed esclusivamente il periodo in cui la borsa ha effettivamente scambiato quindi in un mese non abbiamo 32 giorni ok abbiamo 30 o 31 giorni ma i giorni da considerare sono quelli di borsa aperta siccome il mercato apre il lunedì e chiude il venerdì in questo caso io avrò circa 20 giorni di borsa aperta in un mese di calendario ok perché abbiamo quattro settimane da cinque va da sé che il ciclo mensile durerà circa un mese e mezzo ok perché dura 20 giorni di un mese più altri 12 ok stessa cosa circa 16 giorni sono tre settimane ok di calendario da cinque giorni di borsa aperta più un giorno questo per far capire la differenza fra periodo ciclico e periodo di calendario sono diversi noi dobbiamo considerare il periodo ciclico detto questo proseguiamo andiamo a introdurre anche un ulteriore concetto che è il concetto legato alla tendenza in questo caso abbiamo un ciclo mensile rialzista perché al minimo finale più alto del minimo iniziale in più vediamo anche che mentre il ciclo mensile sale quella tendenza influenzerà i sottocicli quindi dal momento che io ho questo mensile ve lo faccio in scala nel momento in cui il mensile sale tutti i sottocicli vengono influenzati da quella tendenza ok quindi avremmo un ciclo 16 giorni rialzista circa una settimana rialzista e così via per farvelo capire meglio ve lo disegno qui come se questi fossero due cicli a 16 giorni formati da due otto giorni che hanno al loro interno due cicli a quattro giorni ciascuno in questo caso quello che si può osservare è che quando il mensile sale i sottocicli sono fatti in questa maniera ok quando invece il mensile scende i sottocicli sono tutti orientati verso il basso quindi ribassisti ok questo è molto molto importante per capire la differenza ok poi dopo li vedremo anche a mercati aperti detto ciò proseguiamo da studi statistici possiamo affermare che il mercato si replica nella maggior parte delle volte con le seguenti conformazioni cicliche partiamo dai più lunghi e arriviamo ai più brevi allora partiamo da un mezzo secolare che è un ciclo che dura più o meno 50 anni non ha senso prenderlo da un punto di vista operativo perché è estremamente lungo ma lo prendiamo da un punto di vista didattico che è formato da due cicli ventennali formati da due cicli decennali i quali sono formati da due cicli economici che sono formati da due biennali ok qui vediamo un ulteriore suddivisione i biennali sono formati da due cicli annuali dato un annuale non abbiamo due semestrali come accadeva più o meno sette anni fa ma dentro all'annuale abbiamo tre cicli cosiddetti intermestrali questi sono annuali questi sono tutti intermestrali che hanno a loro volta all'interno tre mensili ognuno ok dato il mensile riprendere la suddivisione classica quindi il mensile ha dentro due 16 giorni formati da due otto giorni formati a due quattro giorni formati a due due giorni e così via fino ad arrivare a cicli che possono durare anche una sola ora quello che prenderemo in considerazione sarà un ciclo giornaliero del dax a mercati aperti nella parte finale della presentazione è importante prima capire tutti gli step per poi arrivare alla comprensione di tutta la strategia detto ciò se non ci sono domande vedo che non ci sono proseguiamo cominciamo a vedere un esempio di quanto detto cioè in questa immagine vediamo un un grafico di un cross valutario euro dollaro e la prima cosa che si nota appunto la ciclicità ok questo cross ha un time frame giornaliero vuol dire che ogni candela rappresenta un giorno di contrattazione quindi qui vediamo dei cicli lunghi sono tutti biennali ma ovviamente lo stesso concetto funziona anche su cicli brevi e di qualsiasi mercato quello vediamo dell'euro dollaro ma potremmo prendere il dax l'smp il gold potremmo prendere qualsiasi cosa che siano azioni forex commodity ttf tutto ok e vediamo che possiamo avere cicli laterali come questo due minimi sullo stesso livello cicli ribassisti come questo fase di ribasso praticamente doppia quella di rialzo quest'ultimo invece a destra è stato un ciclo rialzista perché il prezzo è sceso ma non è mai sceso sotto il minimo iniziale prima di una ripartenza ok di conseguenza qui abbiamo varie tipologie di cicli quello che noi dobbiamo fare dal punto di vista operativo è individuare dei minimi per fare degli acquisti e vendere sui massimi ovviamente e guadagnare da questa differenza di prezzo oppure vendere nei dintorni del massimo e chiudere le posizioni nei dintorni del minimo e andare a guadagnare da questa differenza di prezzo ok questo è esattamente quello che noi dobbiamo andare a fare vediamo come lo possiamo fare qui vediamo l'indicatore di ciclo che questo indicatore nostro che abbiamo creato noi di cui abbiamo il copyright ci dà una grossa mano in questo ci fa capire esattamente dove siamo dove stiamo andando la cosa che anticipo è che è un indicatore unico che abbiamo solo noi non si trova da nessun'altra parte è un indicatore che si adatta qualsiasi tipo di mercato nel senso che si può adattare su qualsiasi tipo di strumento finanziario e in qualsiasi ciclo cioè possiamo andare a vedere dei biennali come in questo caso ma possiamo anche andare a vedere dei cicli di breve periodo potremmo tradare un tre ore un dodici ore un due giorni un quattro giorni qualsiasi ciclo è un indicatore automatico quindi si mantiene aggiornato in tempo reale senza bisogno di manutenzione ulteriore ok quindi noi lo settiamo lui si mantiene aggiornato in tempo reale in qualsiasi mercato in qualsiasi time frame in qualsiasi ciclo questo è importante detto questo vediamo da quale linee è composto e che tipo di indicazioni ci danno è composto da una linea continua che la traiettoria del ciclo ok da una linea tratteggiata orizzontale che è l'asse dello zero e da una linea tratteggiata anch'essa sinusoidale che è la velocità del ciclo vediamo che tipo di informazioni ci danno quando la linea tratteggiata cioè la nostra velocità attraversa l'asse dello zero dall'alto in basso saremo in una zona di massimo cioè quando noi abbiamo questa situazione in questa direzione noi saremo in una zona di massimo ok quando invece noi abbiamo un incrocio opposto quindi la nostra velocità che la linea sinusoidale tratteggiata attraversa l'asse dello zero dal basso verso l'alto noi saremo in un'area di minimo quindi quando noi siamo in questa direzione siamo in un'area di minimo ok a questo punto andiamo a fare degli esempi per vedere come funziona prendiamo il primo minimo abbiamo detto che il primo minimo ce l'abbiamo quando la linea tratteggiata sinusoidale quindi quella ondeggiante va da sotto a sopra a questo punto saremo in una zona di minimo e la velocità va sopra indicando salita di prezzo quindi salita 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 fin tanto che questa è sopra indica salita quindi anche in tutta questa fase è comunque salita 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 fino qua in questo caso vediamo che il prezzo è andato nella direzione corretta a questo punto a questo punto qui invece che cosa succede che abbiamo la velocità che incrocia dalla parte opposta indicandoci un'area di massimo dopodiché discesa quindi discesa 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 fino qua anche in questo caso ci indica ci ha indicato una direzione corretta ancora una volta area di minimo incrocio opposto salita 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 fino qui anche in questo caso l'indicazione è stata corretta fino a questo punto ancora una volta abbiamo un incrocio della velocità che ci indica un'area di massimo e a questo punto abbiamo la velocità che va sotto indicando discesa quindi discesa 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 fino qui ancora una volta il prezzo è andato nella direzione corretta a questo punto abbiamo una nuova area di minimo quindi salita 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 fino qui anche questa volta abbiamo avuto un'indicazione corretta e il prezzo è andato dove ci ha indicato questo indicatore ok quindi fondamentalmente questo indicatore a colpo d'occhio mi dice dove sto andando e dove sono sul mio ciclo di riferimento cioè se ho la velocità sopra l'asso dello zero so che sono nel bel mezzo di una salita se ho la velocità che incrocia dall'alto al basso so di essere su massimo se ho la velocità sotto so di essere in discesa se ho la velocità che incrocia da sotto a sopra so di essere su minimo e attenzione non sono minimi salite massimi e discese casuali ma lo sono esattamente del ciclo che sto osservando quindi di fatto io so dove sono e dove sto andando del mio ciclo di riferimento non di una tendenza casuale e questo è estremamente importante considerando che possiamo applicare come dicevamo prima tutti i cicli anche quelli di breve periodo e in tutti i mercati chiaro fatemi sapere al volo se ci sono domande sembra di no ma neanche su zoom quindi proseguiamo vediamo ora l'altro nostro indicatore le bande di migliorino rappresentano un indicatore di ultima generazione che va a colmare numerosi punti di debolezza del suo più nota antenate bande di bollinger l'evoluzione hanno portato ad un indicatore più facilmente leggibile che restituisce informazioni molto più precise rispetto appunto alle bande di bollinger immagino che tutti conosciate le bande di bollinger appunto ma qui abbiamo creato un qualcosa di completamente diverso queste sono le nostre bande e queste sono le bande di bollinger cominciamo a vedere le prime differenze allora le nostre bande innanzitutto sono cicliche questo vuol dire vuol dire che sono relazionate al ciclo di borsa quelle che vedete sono di un ciclo a quattro giorni ok quindi sono settate in relazione al ciclo a quattro giorni e ogni qualvolta noi abbiamo un tocco della banda e si genererà un'inversione questo si considera tocco perché quando il prezzo arriva a una distanza inferiore al 5 per cento si può considerare un tocco questo oppure di conseguenza abbiamo dei punti di inversione di prezzo diversamente le bande di bollinger che sono quelle che si trovano bene o male in tutte le piattaforme hanno dei grossi difetti che qui il prezzo esce dalla banda in maniera considerevole qui anche qui il prezzo corre lungo tutta la banda qui la stessa identica cosa qui abbiamo i prezzi che lateralizzano le bande si stringono però io so che quella è una lateralità ma non so se è propedeutica una salita o propedeutica a una discesa semplicemente io lì vedo una lateralità quindi di fatto queste bande qui non mi stanno a indicare nulla di significativo perché nel momento in cui ho un tocco di una banda non so se il prezzo effettivamente invertirà oppure continuerà a salire mentre con le nostre come dicevamo prima ci riescono a dare delle informazioni molto molto precise e come dicevo questi essendo dei punti di contatto di una banda ciclica mi stanno a indicare delle inversioni che sono esattamente le inversioni del ciclo su cui sono state tarate quindi non solo io li vedo che ci sarà un'inversione ma so che quell'inversione in questo caso sarà di un ciclo esattamente a quattro giorni ok quindi mi danno un sacco di informazioni in più fondamentali perché io so che quelle sono inversioni di un quattro giorni e a quel punto so anche che nel momento in cui io avrò un tocco per esempio della banda inferiore la banda superiore diventerà anche il target quindi non solo io so che quello è un punto di inversione del 4 giorni ma so anche quale sarà il target opposto della tendenza e anche in quanto tempo ci arriva perché perché come vi dicevo noi sappiamo che il ciclo rialzista ve lo faccio vedere qui noi sappiamo che il ciclo rialzista è fatto così no quindi minimo finale più alto di quello iniziale il massimo vicino al minimo finale ovviamente la fase di ribasso è meno ampia di quella di rialzo ed il minimo finale più alto quindi se il mio ciclo dura quattro giorni perché è un ciclo quattro giorni il mio massimo so che ci sarà dopo due giorni un mezzo tre ok supponiamo tre per semplicità quindi il momento in cui io apro il grafico e sono per esempio qui o qui io so che cosa so che sono nel bel mezzo della salita di un quattro giorni ok so che il mio massimo ce l'avrò più o meno dopo tre giorni ok e so esattamente che il target d'arrivo è la banda opposta quindi io qui ho un sacco di informazioni più nel momento in cui arrivo a target dopo i tre giorni so che a completare il ciclo a quattro giorni resterà un giorno di discesa e il target d'arrivo è ovviamente la banda inferiore ok quindi io qua ho tutte le informazioni che mi servono chiaramente noi sappiamo prima ancora che il ciclo parta se sarà rialzista o se sarà ribassista poi vi spiegherò dopo come saperlo prima ancora che parta però noi riusciamo a capirlo prima ovviamente dopo vi spiegherò esattamente come come si fa prendiamo l'altro esempio l'altro esempio è quello successivo di un ciclo ribassista ciclo ribassista invece un ciclo fatto così quindi fase di ribasso più ampia di quella di rialzo inevitabilmente il minimo finale più basso del minimo iniziale e abbiamo il massimo più vicino al minimo iniziale in questo caso mi fa un massimo subito quindi dopo un giorno e qui cosa mi devo aspettare ovviamente mi devo aspettare tre giorni di discesa la cui discesa dovrà arrivare sotto il minimo di partenza in questo caso le bande chiaramente sono automatiche quindi seguiranno il prezzo anche queste sono automatiche non c'è bisogno di manutentarla nel momento in cui arrivo al tocco dopo il quarto giorno qui ripartirà nuovamente un nuovo ciclo a quattro giorni ok quindi io con questo indicatore so dove sono dove sto andando dove c'è stata l'inversione dove al mio target in quanto tempo ci arriva direi che ho tutte le informazioni di cui ho bisogno per fare trading chiaro bene a questo punto proseguiamo utilizzato contemporaneamente le bande di diversi cicli possiamo ottenere spunti operativi ancora più performanti ed efficaci in termini probabilità di successo vediamo un esempio questo è quello che vi voglio far vedere io qui ho settato tre bande di tre cicli diversi che sono quattro giorni verde chiaro due giorni verde scuro arancione giornaliero perché ho settato tre bande di tre cicli diversi semplicemente perché nel momento in cui io ho la partenza di un ciclo questo è un concetto che ho spiegato nella parte iniziale del webinar ma che voglio ripetere faccio un disegno per capire meglio io vi ho spiegato che nel momento in cui inizia un ciclo iniziano sempre anche tutti i cicli inferiori quindi quando qui parte un quattro giorni automaticamente partono due giorni automaticamente parte un giornaliero e così via no quindi se io ho un tocco della banda a quattro giorni inevitabilmente lì si deve toccare anche da due giorni e la giornaliera e così è cioè quando io ho il prezzo che sfonda tutte e tre le bande o le tre bande si intersecano fra di loro le mie probabilità di correttezza si innalzano questo altro esempio no prezzo va molto vicino quando va molto vicino si considera un tocco queste sono tutte inversioni di questo ulteriore miglioria un altro esempio ce l'abbiamo qua questo è un giornaliero del dax con tem frame a un minuto e questi sono tutti i cicli giornalieri no queste bande sono giornaliera 12 ore 6 ore come si può notare nel momento in cui non abbiamo un sfondamento tutte tra le bande o le bande si intersecano di lì a poco si genera un'inversione perché identificano delle aree o di minimo o di massimo è inutile cercare i minimi massimi assoluti dico già che è un qualcosa di totalmente inutile e di totalmente impossibile cioè non si può pretendere di andare a beccare l'esatto tic in cui inverte la tendenza ma non c'è nemmeno bisogno noi dobbiamo identificare delle aree per comprare e delle aree dove vendere oppure delle aree dove shortare delle altre aree dove chiudere lo short per guadagnare ok questo è il nostro scopo se è tutto chiaro proseguiamo in sintesi grazie alle bande di migliorino possiamo ottenere le seguenti con informazioni identificano massimi minimi ciclici cosa che abbiamo visto c'è un tocco di una banda non è solo un'inversione ma è un'inversione esattamente del ciclo su questa tarata quella banda identificano target d'arrivo della tendenza pur essendo un derivato delle medie mobili centrate le bande non danno falsi segnali un testo un superamento del canale superiore o inferiore da parte dei prezzi inevitabilmente porta ad un ritracciamento un utilizzo abbinato e volumi ciclici hanno una correttezza di segnale di quasi un cento per cento ora qui diciamo quasi cento per cento perché ovviamente il cento per cento in borsa non esiste chi dice il contrario non è onesto però è inevitabile che nel momento in cui noi abbiamo un tocco sopra o sotto e lì non c'è più nessuno che vende nessuno che compra l'inversione è estremamente estremamente probabile ok detto questo vediamo la strategia più nel dettaglio allora partiamo facendo vedere questa immagine dove qui c'è l'indicatore di ciclo giornaliero questa è un'immagine in tempo reale del DAX e qui ci sono le bande ok prima di andare a fare supposizioni in merito a questo dobbiamo vedere due concetti ulteriori fondamentali allora il primo è legato a un concetto che si chiama ritorno su rischio e deve essere uguale a 4 che cos'è il ritorno su rischio e perché deve essere uguale a 4? allora il ritorno su rischio è la relazione che noi abbiamo tra il target di guadagno e il rischio che mi assumo per prendere quel target ok quindi se io ho un target della mia operazione di 400 punti supponiamo io mi devo assumere un rischio massimo di 100 punti perché deve essere un quarto un altro esempio quindi 400 target rischio massimo 100 se io ho un target sulla mia strategia di 800 punti rischio massimo 200 se io ho un target di 1000 rischio massimo 250 e così via in questo modo io preservo il mio capitale questa è una caratteristica ed è un parametro fondamentale per l'operatività e per chi vuole performare a lungo termine cioè in questo modo paradossalmente sarebbe possibile fare addirittura 3 operazioni giuste su 10 perché se io faccio 3 operazioni giuste dove guadagno 400 punti l'una vado a 1200 per i restanti 7 operazioni che sbaglio perdo 100 ciascuna io perderei 700 ne ho guadagnati 1200 di conseguenza avrei un netto di 500 punti ok ma ovviamente questa strategia qui ci consente di fare il contrario cioè di avere 700 punti scusate 7 operazioni corrette in questo ritorno sul rischio quindi 7 per 400 2008 e le restanti 3 da 100 fanno 300 quindi 2800 di incasso 300 di perdo ho un netto di 2500 ok in questo modo qua io ho una profittabilità che va alle stelle no? perché? perché nel momento in cui io controllo il ritorno sul rischio controllo quante operazioni faccio giuste su 10 e ho una corretta gestione del capitale io sono oggi domani e sempre costantemente performante dov'è che nasce il problema? il problema nasce come succede a la grande maggioranza dei trader che fanno periodi bellissimi fanno il 95% dell'operazione giusta poi ne sbagliano una e bruciano il conto corrente o in una settimana bruciano il lavoro di mesi questo avviene perché non c'è un corretto ritorno sul rischio cioè il nostro profit non è adeguato al rischio che ci stiamo prendendo per prendere quel profit ok questo è il concetto e questa è una è una caratteristica cioè questo parametro posto che lo sanno calcolare forse meno del 5% dei trader o sanno quando hanno questo tipo di ritorno sul rischio e questo è un parametro come dicevo prima fondamentale cioè non si può prescindere da questo se voi prescindete da questo o da qualsiasi altro parametro che vi ho appena elencato prima o poi brucerete tutto cioè per rimanere costantemente performanti bisogna sapere quanto operazioni si fanno giuste su 10 sapere quanto stiamo rischiando sul nostro capitale ok quindi io devo sapere che ogni stop deve essere al massimo il 5% devo sapere quando vado a target devo guadagnare 4 volte tanto solo con tutti questi parametri sotto controllo io so di essere performante oggi domani in sempre diversamente farò periodi buoni e altrettanti periodi dove perdo tutto questo è quello che succede come dicevo al 90% delle persone quindi questo vi deve far capire quanto è importante questo parametro ora compreso questo aggiungiamo il fatto che noi abbiamo due tipologie di cicli ciclo rialzista e ciclo ribassista e abbiamo fase di rialzo e fase di ribasso a livello operativo noi prenderemo sempre e solo la fase di rialzo nel ciclo rialzista e la fase di ribasso nel ciclo ribassista queste due fasi a livello operativo non le consideriamo perché non le consideriamo? perché in queste due fasi il ritorno sul rischio che abbiamo appena spiegato è sicuramente inferiore di 4 molte volte addirittura è inferiore di 1 ok? quindi noi dobbiamo capire quando il ciclo è rialzista andiamo al rialzo quando il ciclo è ribassista andiamo al ribasso punto per fare questo dobbiamo capire chiaramente in anticipo se il ciclo che stiamo osservando sarà rialzista o ribassista prima ancora che parta perché altrimenti non lo possiamo sapere detto questo come facciamo a capire se il ciclo è rialzista o ribassista prima ancora che parta dobbiamo guardare un ciclo di 4 ordini superiore partendo da quello che mi interessa quindi giornaliero noi tradiamo il giornaliero in questo caso 2 giorni 4 giorni 8 giorni quindi io devo guardarmi un 8 giorni per capire se il ciclo giornaliero che sto osservando sarà rialzista o ribassista prima ancora che parta eccolo qua io qui vi inserisco un attimo l'indicatore adesso arriva giusto un istante eccolo qua questo è un indicatore di ciclo che ho spiegato precedentemente settato a 8 giorni e inevitabilmente mi farà vedere che questo è un ciclo a 8 giorni so che è un 8 giorni perché questo indicatore di ciclo ha un settaggio dell'8 giorni ovviamente un 8 giorni è formato da 1 2 3 4 5 6 7 8 giornalieri come è normale come è normale che sia ma questi giornalieri hanno delle caratteristiche specifiche cioè quando l'8 giorni sale ok di conseguenza la sua velocità è sopra l'asse dello zero i giornalieri saranno fatti così quindi rialzisti quando l'8 giorni invece scende i cicli giornalieri saranno fatti così ok quindi va da sé che io per sapere se un ciclo è rialzista o ribassista prima ancora che parta devo osservare la tendenza del ciclo a 8 giorni se l'8 giorni è rialzista e devo andare solo ed esclusivamente long per rialzista intendo che ha la sua fase di rialzo quando l'8 giorni sta andando nella fase di ribasso io sul giornaliero devo fare solo ed esclusivamente le operazioni short i motivi sono anche abbastanza visivi cioè se io vado a misurare questi rialzi in termini di ampiezza confrontati a questi di qua è chiaro che c'è una grossa differenza no? soprattutto in relazione ai ribassi ve li faccio viola così si distinguono dal rosso del prezzo guardate qua c'è una bella differenza no? quindi a livello operativo andare a prendere questo piccolo rialzo questo piccolo rialzo questo piccolo rialzo è totalmente inutile è totalmente rischioso e stupido se volete perché andare a prendere a rischiare questa piccola tendenza quando so che mi arriverà una fiammata ribassista quando so che mi arriverà una fiammata ribassista so che mi arriverà una fiammata ribassista è inutile stupido e insensato quello che noi dobbiamo fare invece in queste fasi qui è cercare il massimo e andare short cercare il massimo e andare short cercare il massimo e andare short ok? non si tradano le salite solo le discese sul giornaliero ok? anche perché quando noi individuiamo i massimi con una velocità dell'otto giorni non parte una fiammata al rialzo come succede di qua non succederà mai la stessa cosa nella parte sinistra cercare questo ribasso questo ribasso questo ribasso quando improvvisamente parte una fiammata al rialzo è qualcosa di totalmente inutile insensato rischioso e stupido qui dobbiamo invece cercare i rialzi qui dobbiamo trovare il minimo andare long uscire aspettare l'altro minimo andare long uscire aspettare il minimo long uscire aspetto il minimo long uscire qui può nascere una leggera un leggero dubbio diciamo perché qua aspettiamo il minimo arriva al minimo beh la velocità è in fase di inversione e non solo in fase di inversione sono passati quattro giornalieri quindi siamo più o meno a metà del mio otto giorni di conseguenza io so che l'otto giorni è in fase di inversione a questo punto io mi devo aspettare o una lateralità o comunque una tendenza non tanto forte come quando la velocità è qua sopra o qua sotto quindi qui ho due scelte o entro comunque facendo molta più attenzione perché so esattamente che la tendenza non è più forte come precedentemente oppure io questo qui lo salto di netto dico ok questo sarà una lateralità aspetto l'inversione poi che cosa succede arrivo sul minimo la velocità va sotto l'asse dello zero a questo punto io posso cominciare a fare il short quindi aspetto al massimo via short aspetto al massimo via short aspetto al massimo via short e così via ok questo è esattamente ciò che noi dobbiamo fare e considerate che così facendo i ritorni sul rischio sono molto interessanti perché perché un giornaliero di dax va intorno ai 200 punti di media 200 punti di media sono 200 euro con un micro 1000 euro con un mini 2500 euro anzi 5000 euro con un contratto pieno quindi potenziali ogni singolo giorno quindi le potenzialità sono molto interessanti ma cioè noi con questo metodo abbiamo dei ritorni sul rischio elevatissimi perché se io vado a prendere per esempio questo rialzo di questo ciclo va dai 15.370 più o meno 15.590 sono 220 punti contro 70 di discesa quindi qui abbiamo una salita che è più che tripla della discesa ok ma ovviamente il mio rischio non è tutta la discesa perché io non mi metterò in posizione di rialzo qui sopra ma qui sotto sul minimo quindi qua mi può venire contro i 10-20 punti ma poi parte e ho 200 punti davanti contro un rischio magari di 20 ok questo è la logica chiaramente così funziona anche di qua no cioè qua ho un rialzo che è ridicolo e un ribasso che è altamente profittevole se fatto correttamente andando alla situazione attuale qua vi faccio vedere qualche ciclo 8 giorni giusto per togliervi ok si nota molto bene in questo caso e avrete anche capito bene che da qua qui se voi provavate questi giornalieri al rialzo facevate soldi se li provavate al ribasso bruciavate soldi stessa cosa qui questa tendenza qui tutti i giornalieri qui dentro andavano fatti al ribasso se no sarebbero stati problemi no anche qui guardate questa rottura questa rottura qui fare i short è tanta roba tanti soldi ok per questo diventa fondamentale capire dove si è sull'otto giorni per andare a tradare il giornaliero no questo è semplicemente per capire se bisogna andare long o se bisogna andare short sul giornaliero ma l'operatività ovviamente è sul giornaliero ok e questo rapporto si può fare con tutti i cicli cioè noi stiamo guardando l'otto giorni per tradare il giornaliero potrei guardare il mensile per tradare quattro giorni potrei guardare il giornaliero per tradare altre ore e così via quindi non ci sono limiti guardando questo otto giorni per esempio ho fatto un rialzo piccolissimo e la velocità ad oggi è sotto l'asse dello zero in maniera abbastanza non voglio dire importante ma abbastanza consolidata quindi la velocità sta ritornando verso l'asse dello zero quindi possiamo presumere che i ribassi diciamo che sono quasi terminati qui siamo in quella fase dove abbiamo visto prima il ciclo otto giorni sta invertendo quindi probabilmente arriverà una lateralità e poi una ripartenza verso l'alto quindi sul giornaliero i giornalieri precedenti noi dovevamo farli in short ok quindi dovevamo aspettare che cosa il massimo quindi da qui a qui non si tradava dovevamo aspettare che la velocità rompesse l'asse dello zero le bande che si avvicinano qui e qui si andava short qui si esce questa è stato lo short di oggi che è arrivato qui ora io mi aspetto che il prezzo scenda ancora leggermente e poi ci sia una ripartenza la ripartenza noi non la consideriamo perché l'otto giorni ha ancora la velocità sotto l'asse dello zero quindi io devo fare uno short mi devo aspettare il massimo e andare in short quindi quello che io mi aspetto per la giornata di domani è un'andatura fatta in questa maniera dove io devo avere l'indicatore di ciclo così le bande fatte così quindi il momento in cui io avrò tocco della banda rottura della velocità questo è il mio short ok e chiuderò quando o la velocità incrocia l'asse dello zero al rialzo oppure arriverò a tocco della banda inferiore ok hai visto quanto è semplice fare trading con gli strumenti corretti no perché qui tu hai delle situazioni molto molto visibili no hai degli indicatori che ti danno dei punti in maniera oggettiva cioè non è che devi tanto interpretare tu vedi uno scenario sai che in quel punto hai un certo tipo di ritorno sul rischio gestisci il capitale in una certa maniera e a quel punto entri e questo è fondamentale per un'operatività noi siamo arrivati a questi indicatori dopo veramente moltissimi anni di studi test soldi persi sui mercati considerate che sono strumenti che esistono da 15 anni non li ho inventati io io sono abbastanza giovane all'interno dell'accademy però sono strumenti che ha iniziato a sviluppare il mio socio che fa questo lavoro da 20 anni dopo veramente moltissimi studi siamo arrivati all'automatizzare degli indicatori di questo tipo come anche molti altri tra cui indicatori volumetrici eccetera però in questo modo siamo riusciti a rendere il trading alla portata di tutti perché siamo in un settore dove più o meno il 90% delle persone brucia soldi il motivo per cui li brucia è dato da due fattori il primo è che è difficile trovare formazione valida tutto ciò che si trova è o analisi tecnica statistica eccetera che non funziona questo è un dato di fatto perché il mercato non si ripete alla stessa maniera quindi noi per avere una stabilità di rendimento dobbiamo capire cosa muove il mercato e seguire le cause del movimento che è il denaro qui noi stiamo seguendo il denaro un ciclo esiste perché entra e esce del denaro quindi se tu ti focalizzi su dei concetti economici sensati allora ok ma se tu vai su analisi del grafico linee eccetera oggi funziona domani non lo sai perché noi stiamo guardando indietro guardiamo cosa si è ripetuto e speriamo che nel futuro si ripeta uguale ma non sarà così non è mai così quindi già lì eliminiamo il 90% di ciò che c'è sul panorama formativo dall'altro lato la maggior parte di quello che si trova è tutta analisi magari anche volumetrica o sensata però è di difficile applicazione molte cose che si trovano da un punto di vista fondamentale volumetrico o chi le spiega riesce ad applicare una strategia anche performante ma grazie alle sue intuizioni o al fatto che guarda il grafico da 40 anni oppure non hanno tutti quei parametri di gestione del rischio di ritorno sul rischio che ti servono per avere una strategia precisa e soprattutto non hai una non discrezionalità cosa vuol dire una non discrezionalità una non interpretazione quando è che una strategia è per tutti dal mio punto di vista diventa per tutti quando tutti vedono lo stesso ingresso perché è solo a quel punto che tu puoi avere una stabilità di rendimento perché nel momento in cui tu devi interpretare è lì che poi si generano confusioni c'è chi guadagna c'è chi no quindi questo è una grande discriminante in questo caso noi siamo riusciti a rendere qualcosa alla portata di tutti per questo poi ovviamente qua c'è un setup di base una conformazione di base non è tutto noi abbiamo sviluppato tantissimi altri indicatori tra cui indicatori volumetrici eccetera però già ti fa capire dove sei dove stai andando per questo noi abbiamo creato la Top Trading Academy che è la nostra accademia dove il nostro scopo è formare trader fino a che diventino profittevoli per poi magari farli collaborare con noi se vorranno perché vogliamo diventare sempre più un punto di riferimento in questo settore e vogliamo sviluppare ancora di più cosa che noi facciamo a tempo pieno quasi perché è la nostra passione ok da qui abbiamo come dicevo creato un percorso si chiama All Inclusive che è un percorso ciclico in sostanza dove tramite una serie di video sono circa 20 ore di contenuti in cui portiamo chiunque all'utilizzo dei nostri indicatori e strategie da zero lo portiamo all'utilizzo di tutte le nostre strategie una volta terminato il percorso gli diamo i nostri indicatori in utilizzo quindi lui li può usare gli diamo in mano e successivamente abbiamo anche la possibilità di avere una live a settimana per sempre in cui diamo assistenza quindi qualsiasi domanda problema necessità di settaggio eccetera ci siamo e facciamo sì che diventi totalmente indipendente ok il nostro scopo è portare tutti a essere o la maggior parte a essere performanti e indipendenti ok ora c'è la domanda classica da un milione di dollari quanto vale una strategia che con 5.000 euro di capitale ipotetico potrebbe farti fare anche solo 1.000 euro al mese diciamo che non c'è un valore univoco nel senso che la risposta a questa domanda vale tantissimo perché primo perché ti dà un qualcosa che puoi usare e che ti può portare a un risultato ma soprattutto perché ti evita un enorme ammontare di errori che senza dubbio faresti in borsa non sono concessi sconti ai momenti in cui sbagli paghi e paghi caro perché nel momento in cui tu fai un errore bruci soldi e se tu tenti di comprendere una strategia a suon di errori ti accorgerai che ti costerà veramente moltissimo in primis e in secondis hai una problematica del fatto che nel momento in cui tu sbagli e non hai capito perché hai sbagliato di fatto quei soldi sono completamente buttati quindi qui hai da un lato un qualcosa che ti fa capire esattamente cosa fare e cosa non fare quindi risparmi tempo soldi buttati in qualcosa che non funziona soldi persi in strategie sbagliate eccetera dall'altro hai un qualcosa che ti porta ad avere un risultato perché fare comunque il 20% mese è qualcosa di comunque interessante ok in più considerando anche il fatto che il trading è comunque un'attività che ad oggi più che mai è sulla cresta dell'onda ma per un motivo molto semplice cioè ad oggi in borsa gira più di 30 volte il più mondiale è in continua crescita più del 10% l'anno questo vuol dire che sempre più multinazionali muovono soldi dall'economia reale alla finanza quindi non è che le crisi ci sono perché mancano soldi ok le crisi ci sono perché i soldi vanno da un'altra parte e non nell'economia reale semplicemente in più è un'attività che può iniziare con un investimento paritetico allo zero cioè non è come aprire un'attività dove sono richiesti una qualsiasi attività al giorno d'oggi sono richieste decine di migliaia di euro affitti un locale un capannone macchinari fai una società il notaio il capitale insomma servono soldi e non è detto che tu arriverai a un risultato anzi la maggior parte di quelli che iniziano ad oggi purtroppo falliscono in pochissimo tempo qui hai un'attività che puoi iniziare veramente con nulla basta un pc una connessione e la la conoscenza un'attività che ti può far crescere velocemente perché in borsa fare mille euro cento euro al giorno o diecimila tecnicamente è la stessa identica cosa dipende da quanti soldi impieghi sulla singola operazione e ti può far crescere in maniera molto molto veloce ok senza contare il fatto che puoi lavorare da ovunque in qualsiasi condizione anche in tempi di crisi perché puoi guadagnare anche se il mercato scende eccetera eccetera detto ciò ripiloghiamo cosa comprende la nostra formazione comprende più di 15 anni di esperienza che chiaramente non è tutta mia perché sono uno dei membri più giovani la conoscenza che ti eviterebbe tutti quegli errori che senza dubbio faresti come abbiamo detto prima chi non ha una formazione certamente sbaglia e brucerà un sacco di soldi come abbiamo fatto tutti all'inizio però tu oggi hai la possibilità di evitare quei enormi ammontare di errori che noi abbiamo fatto che chiunque ha fatto e andare direttamente a ciò che serve attraverso un videocorso con più di 100 video più di 20 ore di contenuto con vere operazioni a mercato aperto videocorso che puoi guardare e rivedere a tuo piacimento per sempre quindi senza nessun tipo di scadenza indicatori per un periodo di 6 mesi dal momento della tua richiesta cioè dal momento in cui tu hai studiato e decidi di iniziare a usare gli indicatori li scarichi a quel punto partono 6 mesi inclusi dopodiché c'è un rinnovo annuale che chiaramente noi consideriamo non un costo perché si dovrebbero fare abbondantemente in 6 mesi di operatività ok non voglio dire che si dovrebbe farli al giorno ma come minimo settimana dai webinar di supporto settimanale in cui ti verranno date tutte le risposte verranno chiediti i dubbi verranno fatte analisi di mercato per sempre quanto vale tutto ciò 5.000 diciamo che questo è ciò che pensavamo di richiedere ok ma ovviamente anche se a noi ci è costato almeno 10 volte tanto solo in soldi persi però volevamo creare un qualcosa che fosse per tutti quindi abbiamo deciso di venderlo ad un prezzo simbolico 1.647 perché dico simbolico dico simbolico perché a me è capitato di perdere in meno di un giorno quando non sapevo come si faceva trading ho studenti che li fanno in meno di un giorno anche quindi abbiamo persone che riescono anche ad arrivare ai 1.000 2.000 3.000 euro al giorno quindi un qualcosa ti dà la conoscenza per arrivare a fare certi numeri ha un valore che è veramente molto più alto considerando che c'è un'assistenza costante continua e dei contenuti che ti rimangono a vita qualcosa di molto molto interessante voglio farvi un altro regalo però i primi 5 che hanno deciso di diventare profittevoli e comprano prima di domani alle 13 avranno un ulteriore incredibile sconto aggiuntivo da 1.647 si passa a 1.347 possibile acquistare con bonifico carta o paypal oppure con finanziamento ok questi sono i miei contatti per qualsiasi domanda dubbio vi venga in mente potete segnare i miei contatti vi faccio giusto vedere come si può procedere all'acquisto si va a questo link comprando su paypal troverete già il prezzo scontato e soprattutto paypal consente anche di fare il pagamento in trattata tasso 0 quindi potete direttamente andare su paypal cliccando il bottone fate accesso col vostro account e lì potete decidere di dividere l'importo in tre una rata ogni 30 giorni totalmente senza costi per acquistare invece con carta si clicca su acquista si sconto 300 in maiuscolo e attaccato il prezzo è 1347 si può compilare dati della carta eccetera una volta acquistato vi verranno mandate delle credenziali dove accedendo al nostro sito avete tutti i video con un login potete entrare vederveli tutte le volte che volete quando volete per invece fare il pagamento con bonifico o con finanziaria la finanziaria consente di fare dei pagamenti mensili anche a 50 60 euro contattatemi che vi spiego esattamente come si può fare ok cosa importante gli indicatori funzionano sull'MT4 Multicharts e NinjaTrader però è fortemente consigliata la Multicharts che è la piattaforma che vi faccio vedere prima sia perché è professionale sia perché ospita i dati volumetrici ufficiali che sono comunque importanti per le analisi e c'è un broker che ve la dà gratis quindi si risparmiano 2000 euro di piattaforma perché la Multicharts normalmente costa intorno ai 2000 euro ma abbiamo un broker che ve la dà gratuitamente se aprite un conto anche da 100 euro quindi è sicuramente molto conveniente l'MT4 è renta è una piattaforma che non è validissima in sincerità altra cosa importante quanto costa il rinnovo allora una volta passati sei mesi di utilizzo c'è un rinnovo indicatore che è di 800 euro l'anno però se in sei mesi di operatività non avete fatto 800 euro considerando che una volta la settimana c'è una live dove vi do le risposte vi do aiuto vuol dire che non avete aperto corso ok questo è il concetto ovviamente io rimango a disposizione qualsiasi dubbio domanda informazioni su pagamenti eccetera ripeto contattatemi al numero che vedete o alla mail che vedete e ci sentiremo telefonicamente vi spiegherò qualsiasi tipo di cosa vogliate ok quindi vi rinnovo l'invito a scrivermi per fare qualsiasi tipo di acquisto e ci sentiamo nei prossimi giorni grazie dell'attenzione alla prossima